Bella a tutti ragazzi, se sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Oggi ragazzi sono tornato con un gameplay davvero davvero incredibile. Qualche mese fa era uscito sul mio canale il record italiano di kills su Deathmatch a squadre, mi raccomando, su Deathmatch a squadre, dove su 100 eliminazioni di team ho fatto il record facendo 65-12. Al tempo, ok, era marzo, quindi il record era in piedi, però avevo pensato che sarebbe stato difficile con il tempo batterlo. Ebbene sì, l'abbiamo fatto, però devo fare qualche piccola preambola, un piccolo presupposto prima di farvi vedere la partita. Allora, si tratta di 77-6, fatto appunto su Deathmatch a squadre, quindi il record non è di quante kill ho fatto, ma che le ho fatte su Deathmatch a squadre, perché essendoci il limite è più difficile farne tante, ovviamente. Anch'io ho fatto 180-160 kills su dominio, però non è di questo che stiamo parlando oggi. Partiamo dal primo presupposto, non c'è l'audio di gioco, perché purtroppo mi si è swanculato durante la live e quindi non si sentirà. Metterò una canzone di sottofondo per farvi avere un po' qualcosina. Secondo presupposto, ancora più importante, la lobby era una lobby facilissima, forse una delle lobby più facili che abbiamo mai trovato su questo gioco. Ma c'è un motivo, era la seconda partita del giorno, quindi lo skill-based matchmaking non si era ancora attivato per trovare lobby del mio stesso livello. Non so se sapete, vi capita mai la prima partita del giorno, trovate una lobby molto più facile, perché ancora non vi ha messo dentro il circolo di quella giornata. E secondo motivo, c'è la prova adesso, quindi sono tante persone che hanno scaricato il gioco appunto in prova e quindi che sono poco esperte. Logicamente è stato il primo a dire mazza che bella lobby, cioè ci sta la bravura secondo me, non dico per tirarmela, ma perché sono contento di questa partita, sta nel saper sfruttare la lobby e tirarne fuori il massimo. La partita è stata fatta con l'OTS9, la nuova classe, la classe è quella del progetto perché l'avevo appena sbloccata e quindi non avevo livellato l'arma. 77 kill, ho fatto dentro pure la nuke, quindi la vedrete. Vi lascio vedere la partita, non voglio rubarvi altro tempo che mi sono già dilungato troppo, mi auguro che possa piacervi, vi mando un bacione e vi auguro una buona visione. Ciao boys! Che poi in realtà novellini fino a un certo punto, perché magari sta gente è gente che ha pure 4 di rato su Warzone e mo' me la trovo in lobby, solo che non giocava Cold War. Eh perché c'è la settimana gratis Luca, dale grazie del follow, benvenuto. C'è la settimana gratis e essendoci la settimana gratis trovi tantissimi che sono in prova e quello è troppo comodo. Vedi anche questo, livello 300, probabilmente anche lui ha avuto il culo, però capita una volta. Cioè quando c'è la settimana gratis l'unica roba bella sono le lobby perché sono un po' più semplici del solito. No, ha marato un colpo. Eh lo so che non si sente l'audio di gioco raga perché mi ha esploso il monitor. Eh raga il bello della settimana di prova è che magari ti trova pure gente, ti trova pure gente forte, però magari gente brava su Warzone no? E che quindi al multiplayer non ha mai giocato, non sa il movement, non sa... Io canta. Però ripeto, è l'unica cosa bella della settimana di prova, quella delle lobby perché a livello tipo... I server fanno sboccare, dai fa curati veloce please. È l'unica cosa minimamente piacevole. Perché sennò soprattutto per come strutturano i server che vanno una volta sì e l'altra no. Quello è gigafassidioso. Sono in tre a camperare di sopra, vero? L'hai visto quello alla finestra? Che fa il verme? Raga ma come stanno giocando questi? No! Questo qua è forte. Con la skin da tryhard era bravo. Ora sono un attimo in full concentration mode, scusate. che sto... Che sto... Stai in serie. Mi dispiace che non si senta l'audio perché è una bella partita questa. Godo, 29, ultimo. Ce l'ho sopra. Godo, testata nucleare. L'avevo detto che era una bella lobby. Eh, le vedi subito le lei, roba. Una lobby dove sono tutti in prova, raga. Le lobby dove sono tutti in prova sono... Oro colato. Aspetta che... No, voglio la sigaretta per farmi il tiretto della carica nucleare. Ole. Benvenuti su Cold War. Era da dare il benvenuto a questi. Hanno appena scaricato il gioco, sono in prova. Li facciamo capire da subito come si gioca Cold War. Poverini. Quanto giocheranno ancora Cold War questi? Poveretti, oh. Cioè, appena scaricato il gioco dici, vabbè, proviamo. Magari è un bel gioco e mi diverto. Prima... Le prime due partite trovi contro uno che ti tira la testata nucleare. Umiliante. Umiliante. Vabbè, sono contento. Lobby o non lobby... È sempre... È sempre bello. Sempre bello. Lobby... Ho pure equittato tutti. Lobby o non lobby, alla fine... Sono gameplay sempre complicati da fare pure con le lobby facili. Cioè, poi questo qua chiamatemelo facile. Questo qua lo vedi che è uno forte, raga. Questo qua lo vedi? Che è questo che ricode lo skill based matchmaking con le cose di prova. Cioè, sto qua con la skin viola è bravo a giocare. È forte. Si vede che anche magari su Warzone è uno bravo. Perché fa slide cancel, si muove bene, è una buona mira. Però lo vedi che probabilmente non ha mai giocato a Cold War. E quindi non sa le dinamiche, no? Cioè, non è che è un bot. Capisci quello che... Capite quello che sta intendendo. Del perché sta roba è oro. Perché... Magari ti trova... Le lobby comunque con lo... Col matchmaking di merda. Con lo skill based matchmaking. Solo che magari... Sta gente è gente che è forte, ma non su Cold War. E quindi... Poi ci sono un sacco che sono davvero incapaci, eh. Però vi ripeto... In maionestissima opinion... Ogni tanto godo pure a trovare gli scarsi. Non posso trovare sempre solo i fenomeni. Eh, no, raga. Perché è death match? Doppia nuke? Niente. 72 kill su death match. Oh, il record mio italiano... Cos'era? Italiano? Era 65. 75. Oh! Quanto era il record italiano che avevo caricato? No, era 65. Quanto era il record italiano che avevo caricato di eliminazioni su death match, raga? Sul mio canale l'avevo caricato. 65 era. Era 65, raga. Jam. Grazie del follow. Era 65 kill su death match. Il record italiano che avevo fatto. L'abbiamo migliorato, secondo voi? Eh, sono stato blessato dalla lobby, raga. Sono stato blessato dalla lobby. Come giro questi pipi un fenomeno e grazie dell'az luglio. alla innevitare access 레icole vi dice... E... Di solitare ha il Survivor delity隊. Grazie.